Buongiorno a tutti, nuova edizione di Scommettiamo che c'è più io, edizione Serie A, quinta giornata. Si è conclusa ieri la quarta giornata, ma oggi riparte subito la quinta. Come abbiamo detto per la Serie B, quest'anno anche la Serie A corre veloce, quindi bisogna accelerare i tempi e sbrigarsi. Partiamo subito. Bologna-Genoa, pronostichiamo un bel pareggio. Atalanta-Sassuolo, 1-X. Fiorentina-Inter, ci può stare un pareggio. Speranitana-Verona, per me vincerà il Verona. Spezia-Jue, la Jue deve vincere per forza, altrimenti sarà crisi vera. Cagliari-Empoli, X. Milan-Benezia, 1. Sampdoria-Napoli, 2. Torino-Lazio, 2. Roma-Udinese, 1-X. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che indovineremo molti risultati. Spero che vi iscriverete al canale e metterete un sacco di like. Detto questo, buona giornata a tutti. Spera di QTSS, Grazie a tutti.